Ciao bambini, oggi andremo a fare un gioco divertente insieme, un 2-3 stella, però con gli esercizi di ginnastica. Attenzione sempre a dove fate la ginnastica, non dobbiamo avere ostacoli. Una persona si metterà al muro e farà un 2-3 stella, sarà lui a decidere che esercizi fare. Faremo degli esercizi di equilibrio e di tenuta del nostro corpo. Adesso andremo a fare l'esercizio tenuta gamba avanti, 1-2-3 stella, 1-2-3 stella, fino a toccare il muro. Chi arriva per primo sostituirà a fare lui 1-2-3 stella e deciderà lui a sua volta. Adesso tenuta gamba piegata avanti, 1-2-3 stella, 1-2-3 stella. Adesso tenuta gamba dietro ad angelo, 1-2-3 stella. Adesso andremo a fare un appoggio con il sedere a terra, gambe dritte e alzate da terra, 1-2-3 stella. Adesso vi faccio vedere tante altre posizioni. La prima, gambe aperte, appoggio le mani. La seconda, chiudo le gambe, alzo una gamba dietro, mani a terra. con l'altra gamba, affondo, cambio gamba, scivolo, tavolino. Così potete giocare tante volte, spero vi siate divertiti.